Buongiorno a tutti e grazie da ospitalità. Dove stiamo concentrando le nostre forze noi di Trustforce in questo momento? Una delle cose che abbiamo fatto è quella di costruire un percorso formativo manageriale in collaborazione con Sida Group, una realtà attiva sul territorio da oltre 30 anni, che permetterà agli agenti di viaggio di crescere le proprie competenze in termini di gestione collaboratori, di gestione delle emergenze, di team leadership, di comunicazione interpersonale e anche di gestione dell'attività social. Perché? Perché abbiamo pensato ad un percorso così professionalizzante? Perché personalmente, anche confrontandoci con il team, crediamo che il ruolo dell'agente di viaggio nel prossimo futuro, quando questo incubo sarà terminato, sarà proprio quello di essere l'epicentro delle informazioni per permettere al viaggiatore di ripartire. Nel senso che le informazioni necessarie per i viaggiatori saranno molte di più di oggi, le procedure saranno sicuramente rafforzate, i protocolli sanitari saranno tali che soltanto l'esperienza degli agenti di viaggio, il loro ruolo consulenziale e la loro managerialità potrà permettere appunto ai clienti di partire tranquilli, sereni, verso le loro destinazioni. Quindi un ruolo addirittura rafforzato, anche se ci vorrà tempo, il mercato ripartirà con lentezza, ci saranno diversi steps, però ci sarà un momento in cui il nostro ruolo troverà veramente un punto di forza che in passato probabilmente non c'era più e piano piano andava perdendo.